Si chiama Paxlovid, il nuovo medicinale antivirale che da domani sarà disponibile anche nelle farmacie salernitane dove potrà essere somministrato previa presentazione della ricetta di prescrizione del proprio medico di base. La novità è stata annunciata questa mattina dalla responsabile Asla Arcangelo Sagesetozzi che ha tracciato un bilancio anche delle cure antivirali, quelle cioè da utilizzare quando si è già contagiati, già in vigore da un mese, nel comprensorio salernitano. Nel caso di Paxlovid prodotto da Pfizer è consigliabile l'uso a pazienti fragili o a chi contagiato dal Covid a sintomi gravi sin dall'inizio ed è soprattutto importante prenderlo subito. Una terza opzione, un antivirale Paxlovid distribuito direttamente presso le farmacie pubbliche, presso le farmacie sul territorio, basta la prescrizione del medico di base e ci si può regare con la ricerca del medico di base presso la farmacia e ritirare questo farmaco e prenderlo direttamente. Quando, dottore, è necessario prenderlo? È necessario prenderlo quando ci sono i primi segnali della malattia, cioè quando c'è un tampone positivo e si è in condizioni di potenziale pericolo per condizioni di fragilità o di età di queste persone. Non è un farmaco da prendere alla leggera in tutte le condizioni, ma quando c'è la persona ottantenne che nonostante le dosi successive è di nuovo positivo o è per la prima volta positivo, è importante che si valuti da parte del medico di base l'opportunità di somministrare il farmaco antivirale che a questo punto è un farmaco curativo, cioè un farmaco che agisce sul virus, interrompe lo sviluppo e la diffusione del virus all'interno dell'organismo. Intanto l'ASLA ha reso noti anche i risultati del lavoro d'indagine con l'Agenzia delle Entrate sulla mancata vaccinazione. La comunicazione è che ci sono circa 20.000 persone in provincia di Salerno che non avrebbero rispettato l'obbligo vaccinale. Di queste 20.000, già 10.000 hanno ricevuto la comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, hanno ricevuto la raccomandata a casa e adesso devono ritrasmettere a noi le informazioni in acclusa a questa raccomandata in cui dimostrano che al 1 febbraio, mi raccomando, quest'obbligo andava assolto entro il 1 febbraio, per cui al 1 febbraio o hanno avuto un differimento dell'obbligo vaccinale o hanno avuto un'esenzione vaccinale o sono stati colpiti dalla malattia per cui sono stati differiti per questo motivo. Con queste tre condizioni, se ci sono queste tre condizioni, possono scrivere all'ASLA e avere la dimostrazione dell'insussistenza dell'obbligo vaccinale. Negli altri casi riceveranno direttamente la sanzione di 100 euro. Grazie.